ciao amici benvenuti nel mio canale youtube attraverso il quale oggi vi propongo e ascolto dei miei pezzi chitarra e voce e nei miei video tratti dal mio triplo album diventa ciò che sei che state ascoltando alle mie spalle lo trovate a valdano presso film musica il negozio in cui mi trovo in questo momento di stefano blanco e trovate il mio album in tutti i negozi di vicenza provincia e rarona l'obiettivo di questa operazione è quello di presentarvi via via i miei grani scritti tanto tempo fa in una dimensione un po più intimista nel ricordo dei migliori momenti di vita che ho vissuto in giro a concorsi e con il karaoke il futuro il futuro al nome è un nuovo progetto si chiama micro e macrocosmo perché la musica ricordiamocelo possiamo farla soltanto insieme ciao ragazzi venite a trovarmi nel mio canale youtube vi aspetto con marco punk ciao